Qua io, questa prima fase è andata, ho fatto un sacco di cazzate, un sacco di partite di merda, io mi auguro che per la seconda fase tutti quanti noi possiamo combattere, non spaventarci nessuno e continuare nel secondo tempo per mille minuti a combattere per i risultati. Quindi questa obiettivo non intervagna neanche per la classifica, però per il morale, per imparare qualcosa, è fondamentale. Quindi il cestellino che fa? Lutisce! Che cazzo fa? Lutisce! E dai voglio! Dai!